Per quale motivo si è dimesso in tutta sincerità? Per sopraggiunti impegni di carattere personale, già ieri sera ho rappresentato al Sindaco la necessità di rassegnare le mie dimissioni per curare il mio lavoro e i miei affari personali. Ma questo impegno non ce l'avevo anche prima, quando firmò proprio la carica che le diede al Sindaco? Sì, senza dubbio ho cercato di organizzare la mia attività in maniera da poter dare il meno fastidio possibile ai miei clienti, ma gli impegni sono talmente tanti che non si riesce a dare istanza alle varie richieste che arrivano invece dalla mia attività professionale. A tutte le critiche che le sono piovute addosso, ci rivediamo agli screzzi con l'architetto Tuccio e gli ombrellini in corso Vittorio Emanuele, le hanno fatto male e l'hanno poi indotta anche a dimettersi? No, assolutamente no, i problemi e le diatribe di carattere politico, critiche strumentali spesso, mi hanno dato anzi invece una maggiore forza per poter rimanere in carica e concludere con un grande successo l'estate gelese, con oltre 90 eventi in 60 giorni, ho tutte le operazioni effettuate con la polizia municipale, sia sulla viabilità che per quanto riguarda l'ufficio formazione che rimane un'istituzione creata da mio impulso e che ha dato molta soddisfazione a me personalmente tutta la giunta e sarà utile alla città. Ci sono state anche alcuni consiglieri comunali che hanno chiesto le sue dimissioni qualche settimana dietro? Ho già all'inizio, proprio all'inizio del mio incarico, abbiamo avuto una seduta di consiglio comunale monotematica su di me, ma come si dice in questi casi, tanto nemici e tanto onore. Lei fino a qualche minuto dietro è stato assessore anche allo sport, le chiedo a che punto sono i lavori al Vincenzo Presti? I lavori al campo Vincenzo Presti sono conclusi, ho lasciato il mando erboso del Vincenzo Presti completamente ristrutturato, anche grazie all'aiuto del collega e amico Flavio Di Francesco, con cui c'è stato un grande lavoro di riportare in auge questo campo e lo stadio Vincenzo Presti, anche i gazebo, i box della stampa sono stati riparati e adesso tutto sta nella gestione, nella gestione del campo. Che voto si dà in questa esperienza? Se fossi un componente esterno io mi darei nove, perché in tutti gli ambiti della mia delega sono riuscito ad ottenere dei grandi risultati. Anche la protezione civile ha avuto il com da parte del prefetto, è stato uno dei comuni della provincia di Caltanissetta, in cui è stato riconosciuto il centro operativo misto, oppure tutte le attività di prevenzione che abbiamo fatto ma che non si sono viste fino a questo momento. La Polizia Municipale rimane il mio cuore, dove ho trovato dei validi dipendenti comunali, sempre leali e ligi al dovere, ma sono stati fantastici anche quelli del settore sport e turismo e spettacolo, su cui abbiamo cercato proprio quest'anno di inserire il nostro comune nelle mete turistiche dei comuni limitrofi. Non è sempre esagerato 9 come voto? No, non è esagerato.